Sulle rive del lago più bello delle Dolomiti, ad un'altitudine di quasi 2000 metri si trova l'hotel Lago di Braies, un luogo dalle origini antiche, patrimonio di storia e cultura, dove anche l'imperatore Ferdinando d'Asburgo amava soggiornare. Inaugurato nel 1899 e posto sotto la tutela delle belle arti, l'hotel a gestione familiare ha conservato per lo più il proprio aspetto originario. Grazie alla sua esclusiva posizione nel cuore delle Dolomiti, all'ottima cucina e alla grande ospitalità dello staff, l'hotel Lago di Braies offre anche a una persona disabile la possibilità di trascorrere un soggiorno indimenticabile nella natura incontaminata. Siamo al Lago di Braies, a 1500 metri d'altezza, la perla delle Dolomiti vicino a Cortina d'Ampezzo, un posto incantevole dove posso venire in vacanza anch'io Monica? Ma certo, noi adesso ci troviamo qua all'hotel Lago di Braies, è un albergo storico, è stato costruito nel 1899, è un albergo antico, però esistono anche per le persone disabili delle stanze che sono attrezzate in modo adeguato. Poi per la cucina, è una cucina internazionale, soprattutto cucina italiana, tirolese, e poi intorno al Lago sono tante cose che si possono fare, delle camminate, però anche per le persone disabili accessibili si può fare un giro intorno al Lago oppure abbiamo anche la nostra terrazza. Ho visto che ci sono le barche che uno può prendere e farsi anche un giretto in mezzo al Lago. Sì, giusto, infatti si possono veramente fare tante cose, poi anche tante persone vengono qua per vedere il posto di un passo dal cielo, girato qua alla Fiction, sì, ovviamente è bello. Terenzile ha fatto appunto questo film, quindi abbiamo visto i cartelloni, è un posto anche molto bello, molto tranquillo e rilassante. Durante l'estate è anche abbastanza caldo e poi fuori stagione più tranquillo. E poi si può venire anche a sciare qui vicino? Abbiamo intorno a 20 km sempre delle aree dove si può andare a sciare, sì. Quindi è un posto da consigliare a tutti. Veramente consigliamolo per tutti, sì. Ti aspetto al nostro albergo per una splendida vacanza al Lago di Braes, nelle Delumiti. Grazie. 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 Grazie.